il 28 maggio è stato trasmesso con un video in premiere sul canale youtube ufficiale ubisoft il reveal ufficiale del gameplay di far cry 6 prima di iniziare a dirvi cosa ne penso però come sempre vi invito a recuperare il video originale rimasto sul canale ubisoft per farvi un'idea vostra e sicuramente più chiara purtroppo per quanto mi riguarda devo dire che ciò che è stato mostrato non mi ha convinto appieno certo è ancora presto per parlare dell'effettiva qualità del titolo quindi mi limiterò ovviamente a parlare di quelle che sono state le mie sensazioni guardando questo gameplay il titolo sembra essere divertente e approcciabile in tanti modi diversi e i personaggi presentati sembrano decisamente carismatici primo tra tutti l'antagonista anton castillo interpretato da giancarlo esposito conosciuto dai più per il suo ruolo nella serie tv breaking bad tuttavia il comparto tecnico non è decisamente ciò che ci si aspettava dal titolo visivamente il gioco sembra nascere già invecchiato e a mio parere una scelta stilistica diversa sarebbe stata forse una scelta migliore a livello di gameplay e ambientazione il titolo sembra semplicemente solo un altro far cry squadra che vince non si cambia vero tuttavia presentando quelle che sembrano essere bene o male le stesse meccaniche di gioco e le stesse tipologie di ambientazione degli ultimi far cry ma essendo indietro nel comparto tecnico il titolo ad una prima occhiata risulta essere un passo indietro rispetto al precedente il gameplay mostrato è stato piuttosto breve e non voglio assolutamente dare l'impressione di stare infangando in partenza un titolo quindi per quanto questo video risulterà breve per il momento devo fermarmi qui nonostante alcune incertezze far cry 6 sembra presentare comunque qualcosa di potenzialmente molto interessante e sarò curioso di saperne di più non appena verranno presentati nuovi trailer spero davvero che questo video vi sia piaciuto grazie a tutti per l'attenzione se volete lasciate un commento dove mi dite cosa ne pensate di ciò che è stato mostrato così da poterne parlare tutti insieme grazie ancora e alla prossima